Aprendogli la porta Attraverso Jane Robbers Se volete una lunga pausa dare da mangiare a un cane nel mondo fisico un cane che si trova dall'altra parte della porta dovete prima farlo entrare aprendogli la porta Nel mondo interiore voi e il cane potete passare attraverso la porta con facilità perché in esso il desiderio è l'azione Desiderio è azione